Assalamu alaikum, mi chiamo Musa Ciarantonio, sono un australiano, però mio padre è italiano. Dieci anni fa mi sono convertito all'Islam. E allora provo di spiegare un po' che cos'è l'Islam? E' un po' che cos'è l'Islam e la vita e il sangue e il sangue e il sangue e il sangue. E ho chiesto all'Islam di dare la victoria a tutti i Mujahideen che combattono per il suo cause, per prendere la banca di La Ilaha Illa Allah, Muhammad Rasulullah. Se volete sapere di più, siete benvenuti di venire qui nella Moschea per parlare un po' con noi. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.